Parola del giorno. Mercoledì 28 agosto 2024. Oggi si venera, Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola, chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi. All'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti. E dite, se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri». Oggi, 28 agosto, si venera, Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Preghiera a Sant'Agostino, o grande luminare della Chiesa, glorioso Sant'Agostino, per quella fervorosa riconoscenza onde, appena convertito, vi deste a studiare la divina legge e da eccitare l'amore con gli ammirabili trattati dell'anima. Per quell'ardentissimo zelo vi applicaste a confutare e a convertire ogni sorta di retici. Ponendoci sotto la vostra santa protezione otteneteci grazia per una completa costanza delle pratiche della fede e di essere sempre degni e riconoscenti a tutti i lavori del cielo, procurando con ogni forza la conversione dei cattivi ed il miglioramento dei buoni, riparando a quel vivere poco conforme ai precetti della Santa Madre Chiesa, per la salute delle anime e delle nostre, nel nome e gloria di nostro Signore Gesù Cristo. Così sia. Sant'Agostino Sant'Agostino, conosciuto anche come Agostino di Ippona, è uno dei padri della Chiesa più significativi e un punto di riferimento per la teologia cristiana. Nato nel 354 d.C. a Tagaste, nell'attuale Algeria, la sua vita fu inizialmente lontana dalla fede cristiana. Prima della sua conversione, Agostino ebbe una giovinezza turbolenta e si dedicò allo studio della retorica, diventando un abile oratore. La sua ricerca della verità lo portò ad aderire alla setta del manicheismo, ma rimase deluso dalle risposte che questa offriva ai suoi interrogativi esistenziali. Fu la lettura dell'Epistole di San Paolo ad avviare il suo percorso di conversione, che culminò nel 386 d.C. quando, secondo il racconto delle sue confessioni, una voce infantile lo invitò a leggere un passo del Nuovo Testamento, portandolo a una profonda trasformazione interiore. Battezzato da Sant'Ambrogio a Milano, in seguito divenne vescovo di Ippona e si dedicò alla lotta contro le eresie, in particolare il donatismo e il pelagianesimo. Autore di opere fondamentali come le confessioni e la città di Dio, Agostino influenzò notevolmente il pensiero occidentale, soprattutto per la sua riflessione sul concetto di grazia e peccato originale. Morì nel 430 d.C., lasciando un'eredità teologica che perdura fino ai giorni nostri.